signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale stiamo andando verso il finale della stagione quindi in questo ultimo mese bisognerà recuperare tutta una serie di argomenti che sono collegati con il war building che è stato l'argomento di questa stagione ma non così direttamente integrati e io sono ancora alle prese con la regolazione del microfono il titolo del video l'avete visto questa settimana andiamo a parlare del mondo parco giochi quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere cos'è un mondo parco giochi e perché dovreste utilizzarlo nelle vostre quest cominciamo come sempre cercando di dare una definizione che cos'è quello che si intende quando si parla di mondo parco giochi il mondo parco giochi come ho detto all'inizio non è specificatamente una tecnica di war building ma è un tipo di costruzione della quest o della campagna che ha il mondo come sua base fondamentalmente è quel tipo di impianto narrativo che vede come principale focus della storia l'esplorazione del mondo che viene rafforzata da elementi narrativi dalle singole quest che siano integrati con la particolare zona del mondo in cui i giocatori si trovano e le tematiche che sono importanti per essa per fare un esempio pratico potremmo dire che i giocatori partono da una città dove devono risolvere un trigo politico contro una famiglia nobile locale per poi andare nell'antica foresta dove gli elfi hanno bisogno di aiuto per combattere i goblin per poi finire in cima i picchi nevati a dare alla caccia al leggendario uomo delle nevi il nome mondo parco giochi deriva proprio da questa logica fondamentalmente il mondo è diviso in aree le tematiche e in ogni area i giocatori troveranno una fonte di intrattenimento a tema e lo stesso principio in cui vengono distribuite le giostre all'interno di un parco di divertimenti ogni zona ha un suo tema e le giostre presenti rispecchiano quel tema molto spesso questo tipo di quest è mal visto è considerato inferiore proprio per la sua natura episodica che non spinge i giocatori a fare grossi legami con il mondo o i personaggi del mondo e perché le quest sono molto spesso slegate tra di loro dato che gli avventurieri si spostano continuamente cambiando continuamente qual è il tema e il focus dell'intera campagna ora effettivamente entro certi limiti questo è vero una quest del genere se non viene gestita a dovere potrebbe semplicemente diventare una serie di episodi sconnessi che come l'unico tratto comune hanno il fatto di essere vissuti dagli stessi protagonisti che poi sono i personaggi giocanti questo di per sé però non è neanche comunque intrinsecamente negativo non dimentichiamoci che questa è la struttura delle opere di per esempio i romanze di Conan il Barbaro che sono delle opere che hanno dato un contributo fondamentale alla nascita e il gioco di ruolo quindi sarebbe anche apprezzabile da un punto di vista di storia del medium un almeno una volta fare un tipo di storia del genere e comunque sempre restando in campo di letteratura buona parte del signore degli anelli altra opera di riferimento fondamentali a una struttura del genere con la compagnia dell'anello che si sposta di zona in zona vivendo in ogni zona un'avventura tematica con il luogo dove si trovano e questo comunque non impedisce che ci sia una anzi una serie di trame orizzontali che leghi tutta l'opera insieme al di là di quali che siano le preferenze personali il gusto estetico del tavolo da gioco ci sono due principali motivi per cui un master dovrebbe preferire un impianto di questo genere per una propria campagna il primo è quello più pratico se vogliamo dire è quello di o costringersi allo sviluppo di un'ambientazione o più semplicemente per controllare che il lavoro svolto nello sviluppo di un'ambientazione sia effettivamente funzionale magari in previsione poi di utilizzare quel mondo di gioco per un'altra campagna successiva ambientando una campagna in una singola zona del proprio mondo di gioco comunque un'area limitata come sarebbe più convenzionale fare si otterrebbe che quella specifica area o quelle specifiche aree verrebbero sviluppate e riempite probabilmente anche di più dettagli di quello che effettivamente è necessario ma tutto quello che durante la campagna non è apparso fondamentalmente resterebbe vago se la struttura della storia però prevede che ogni singola regione della mappa venga visitata e vi debba succedere qualcosa quello che si ottiene è che grosso modo ogni zona nella mappa avrà uno sviluppo relativamente equivalente non particolarmente approfondito ma il master sarà costretto a creare materiale per ogni singola zona e in più i giocatori avranno la possibilità di esporsi su ogni singola zona che visiteranno magari aggiungendo o dicendo che alcuni elementi non gli piacciono una volta finita la campagna dato che ogni zona sarà comunque stata più che appozzata sarà poi possibile procedere con una campagna più convenzionale andando a dettagliare la singola area che interessa o cambiando quello che non è piaciuto alla prima campagna l'altro grande motivo a questo punto chiamiamolo quello più ricreativo è quello di fornire effettivamente una sorta di giro turistico del mondo di gioco ai propri giocatori questo potrebbe servire o per fornire informazioni sul mondo di gioco in una maniera che sia molto più di intrattenimento è molto più divertente scoprire che ci sono i pirati negli asteroidi andando a combattere i pirati negli asteroidi piuttosto che sentendo il master che dice che ci potrebbero essere dei pirati lì dentro show don't tell non dimenticatevelo ma potrebbe essere anche piacevole per un gruppo che quell'ambientazione la conosca già magari perché ci ha già giocato dentro o magari perché state utilizzando un'ambientazione esterna magari un'ambientazione ufficiale un modulo geografico per il gioco a cui state giocando o magari avete creato una vostra campagna ma che si ispira al mondo immaginario di un libro un film un telefilm che a voi e al vostro parti è piaciuto particolarmente ecco in un caso del genere probabilmente una delle principali attrattive della campagna stessa sarà il fatto di poter entrare fisicamente come giocatore all'interno del mondo che per adesso se visto è conosciuto solo dall'esterno e magari i giocatori avranno anche già una conoscenza di quel mondo quindi il mondo stesso potrebbe diventare effettivamente il protagonista della campagna e i giocatori muovendosi al loro interno sarebbero molto contenti di poter vedere cose che grossomodo già conoscono ma poter fare delle cose in prima persona ma non particolarmente interessati a scendere nei dettagli di una specifica zona appunto comportandosi come turisti del mondo facendo una campagna in cui cercano di vedere il più possibile del mondo che li affascina così tanto non fate l'errore di ritenere che il mondo parco giochi in quanto tale debba effettivamente spaziare per una grande zona di territorio né che effettivamente essendo un mondo parco giochi debba essere limitato a un singolo pianeta un mondo parco giochi potrebbe limitarsi a una singola zona una singola città divisa in quartieri in cui in ogni quartiere avviene un diverso tipo di attività e i giocatori dovranno svolgere uno specifico tipo di quest in base al quartiere la classica megalopoli del cyberpunk con la zona del centro i grattacedi dove ci sono la sede delle megacorporazioni con spioneggio industriale e politica bizantina mentre quando ci si va verso l'esterno c'è lo sprawl con le bande criminali più lente contro cui bisogna combattere e magari nella zona industriale ci sono gli operai in sciopero che devono essere aiutati agli avventurieri e al contrario il mondo parco giochi potrebbe stendersi per un'intera galassia con i giocatori che si spostano di quest in quest da un pianeta all'altro e su ogni pianeta dove vanno vivono un'avventura tematica questo fondamentalmente è la codifica originale del troppo del pianeta dei capelli anche di quello abbiamo già parlato lo lascio qua sopra in cui fondamentalmente è la struttura originale delle serie di telefilm come star trek ogni settimana un nuovo pianeta con una nuova avventura in questo periodo tra l'altro nella rubrica di 20 system stiamo parlando dell'ambientazione planscape di dnd con la sua cosmologia il suo multiverso di realtà che si sovrappongono quella è un tipico setting per un'avventura da mondo parco giochi con il party che viaggiando per i piani per coppia la loro missione ogni quest si trova in un piano diverso dove vivrà un'avventura legata a quel piano dovrà resistere alle macchinazioni dei diavoli dovrà combattere contro i demoni dovrà parlare di logica con i modron e via discorrendo tra l'altro nei commenti molti hanno fatto notare che vorrebbero vivere una questa genere diciamo che per questo video è tutto adesso la parola sta a voi ditemi se vi è mai capitato effettivamente di gestire una quest in un mondo parco di divertimenti sia come master sia come giocatore se i vostri giocatori l'hanno apprezzata se non l'hanno apprezzata o se magari voi non lo avete mai fatto ma ci sarebbe un posto che smaniate di visitare come turista fatemi sapere anche se la regolazione del microfono funziona perché io ci sto ancora spaccioccando in realtà quindi non so quale sarà l'effettiva qualità audio di questi video comunque come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che è da crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche io sono il master cae e noi ci vediamo nel prossimo video